Il deludente pari del Napoli contro la Dinamo costringe i partenopei ad ottenere almeno un pareggio con Benfica per accedere negli ottavi di Champions e riemerge il problema del gol. Dopo 18 anni Steven Gerrard lascia il calcio, reduce da due stagioni in MLS, la leggenda del Liverpool, ora 36enne, ha scelto di dire basta, negli ultimi giorni era stato accostato anche all'Inter. Alla fine dello stagio azzurro si radica la convinzione che possa nascere a breve una nuova nazionale destinata a durare nel tempo e Locatelli e Gagliardini potrebbero diventare due pilastri del futuro. Buonasera a tutti, benvenuti alla TMV News, il Napoli e la sua situazione in Champions dopo il pareggio di ieri sera con la Dinamo, ne parleremo qui in studio con Raimondo De Magistris che vado a salutare. Ciao Lorenzo, buonasera. E benvenuto anche ad Andrea Losapio. Buonasera a tutti. Dunque il Napoli per accedere agli ottavi dovrà almeno pareggiare con il Benfica a Lisbona, il Napoli in questo momento è in testa al proprio girone con 8 punti insieme al Benfica, ad un solo punto c'è il Besiktas che all'ultimo turno se la giocherà a Kiev con la Dinamo. Si è un po' complicato la vita il Napoli dopo il pareggio di ieri, è vero che ancora ci sono ampie possibilità per la squadra di Sarri. Potrebbe anche perdere, a patto però che la Dinamo Kiev batta il Besiktas, ipotesi piuttosto remota, visto che la compagine ucraina non ha più nulla da chiedere a questa competizione. Ieri malino il Napoli al San Paolo. Poche occasioni da rete. Pochissime occasioni da rete, una squadra che non è mai sembrata, pochissimi, insomma qualche conclusione dalla distanza. Una squadra che non è mai sembrata in partita Lorenzo, una squadra che offensivamente parlando da quando ha perso Milik di fatto non riesce più a trovare il bandolo della Matassa. Ieri enorme difficoltà contro una Dinamo Kiev che aveva sempre subito rete in questo giro di Champions, aveva sempre perso. Invece ieri di fatto se l'è giocata alla pari nonostante la differenza di motivazioni e francamente non reggono secondo me nemmeno le dichiarazioni di Sarri che nel post partita ha parlato di un Napoli deconcentrato perché a conoscenza del 3-3 maturato a Istanbul tra Besiktas e Benfica, insomma il Napoli doveva vincere invece non è andato oltre uno scialbo 0-0. Stiamo con l'Omela Penso su questo tema, anche Domenico Penso che abbiamo in collegamento con noi, Domenico Penso ex attaccante del Napoli. Buonasera Penso. Buonasera, buonasera a tutti voi. Dunque questo problema del gol per risolverlo bisognerà aspettare inevitabilmente gennaio? Beh, presumibilmente sì, anche perché obiettivamente Gabbiadini ha leggermente disatteso le attese, anche perché non si può chiedere a un giocatore dalle caratteristiche di Gabbiadini di poter sostituire Higuain. C'era riuscito con Mili che purtroppo poi Mili che ha subito l'infortunio e siamo da capo a 12 come si suol dire, ma non è soltanto nella gara di ieri, nella stessa vittoria di Udine. Se non ci fossero stati due regali della difesa friulana, presumibilmente sarebbero state maggiori le critiche dimostrate ieri sera dal pubblico partenopeo. E' un problema serio, perché d'altra parte le gare si vincono facendo un gol più dall'avversario. In questo momento a Napoli, per il Napoli non è così. Zaza può risolvere i problemi del gol del Napoli? Ha caratteristiche più similari a un attaccante come Higuain, anche se è improponibile per qualunque calciatore in questo momento essere paragonato a Higuain per quello che ha fatto nella sua carriera e sta facendo ancora oggi a Torino. Potrebbe essere da stimolo, però non so che cosa poi il Napoli farà di Gabbiadini, perché se Minic recupera e poi ci sarà anche la concorrenza di Zaza, diventa problematico per Gabbiadini trovare spazio. Certo che, oltre ad aver disatteso le attese per quello che riguarda la sostituzione di Higuain, è anche vero che ha bisogno di un punto di riferimento come attaccante. Non è una prima punta e questo lo mette enormemente in difficoltà. Parlando della Champions, facendo un discorso generale su questa competizione per quel che riguarda il Napoli, se passa come secondo classificato nel suo giro, il Napoli poi affronterebbe una tra Barcellona, Atletico Madrid, Monaco o Leicester. E anche se dovesse poi classificarsi il primo, incontrerebbe Bayern Monaco, City o Leverkusen. Insomma, quindi comunque si troverebbe di fronte a un avversario particolarmente difficile. Beh, ma questo vale un po' per tutti perché la fase a Gironi è sempre abbastanza anomala. Perché? Perché spesso non rispecchia i valori reali di quelle che sono le potenzialità delle squadre perché appunto si cominciano a fare calcoli. Quando si arriva all'eliminazione diretta tutti quanti tirano fuori il meglio ed è presumibile che le squadre che hanno maggior caratura tecnico-tattica rietano ad emergere. Ed è un problema anche arrivare primi, come potrebbe succedere allo stesso Napoli, come ci auguriamo tutti, come auguriamo anche la Juventus, di potersi classificare al primo posto. Però poi c'è il rischio di incontrare il Bayern e sicuramente il Bayern non è quello che ha perso poi 3-2 con una formazione che non aveva ancora, credo, vinto in Champions. Per cui diventa difficile anche... Diventa difficile scendere, insomma, se sia meglio poi finire a secondo posto o al primo posto. L'ultima domanda da parte di Andrea Lozapio prima di salutare Domenico Penso. Ecco, cosa farebbe a gennaio? Acquisterebbe un centravanti, un portiere, visto che anche Reina è un po' un problema ormai? Ma quando ci sono questi momenti di difficoltà si cercano sempre dei capi espiatori. Reina è un ottimo portiere e quando si prende gol è inevitabile che bisogna poi suddividere le responsabilità con tutto il resto della squadra. Non è soltanto un problema rea e per l'attaccante sicuramente, anche perché l'infortunio subito da Milik non è una distorsione piuttosto che uno stiramento che puoi valutare i tempi certi di recupero. Quando si parla di lesioni di questo tipo bisogna essere molto cauti e dare il tempo necessario per il completo recupero. Per cui anche a gennaio con un Milik convalescente, presumibilmente il Napoli avrà bisogno di un attaccante che dia... Di sicuro affidamento, insomma, che possa poi riuscire a finalizzare tutto il gioco espresso dal Napoli. Penso, la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Abbiamo sentito così il parere di Domenico Penso, dicevo del gioco che comunque al di là della partita di ieri il Napoli lo produce sempre, e riesce a creare le occasioni da gol, poi manca il finalizzatore, manca il centravanto. Sì, manca il finalizzatore. Ieri un errore clamoroso di Mertens, a tu per tu col portiere della Dinamo, un signe scivolato in aria quando era pronto a calciare a botta sicura. Ha ragione, penso, quando parla di un Napoli che poi non è stato troppo dissimile da quello visto sabato scorso a Udine. Lì gli errori della difesa dell'Udinese sono stati sfruttati, ieri sera di errori non ce ne sono state, le poche occasioni a disposizione non sono state sfruttate, ma manca un finalizzatore a questa squadra. C'è forse da interrogarsi sugli errori di Sarri, o meglio, è chiaro che non è lui il maggiore responsabile di questa situazione, perché non puoi acquistare in estate quattro centrocampisti e restare a novembre senza un vice milico, avere cinque difensori centrali e non avere un terzino. Però Sarri si sta mostrando forse un po' troppo integralista, cioè non riesce a cambiare le sue idee a seconda degli attaccanti a disposizione, perché è evidente che dopo l'infortunio di Milik il Napoli non ha cambiato la sua struttura tattica, nonostante sia evidente che questa squadra non può giocare col 4-3-3. Insomma, troppo rigido Sarri, invece tornando al Girona dei Champions è difficile chiaramente adesso poter scegliere se sia meglio arrivare al primo o secondo posto, certo è che comunque... Sempre meglio il primo, vincere aiuta a vincere, quindi secondo me... Con il rischio di andare con Barcellona, Atletico Madrid... No beh, se arrivi primo il Barcellona... Scusami, se arrivi primo poi con il Bayern Monaco, si, con il Leverkusen, scusami. Brecchi il Leverkusen è magari più semplice, se trovi comunque il Bayern Monaco può capitarti di larga. Diciamo che arrivando primi ci sarebbero più possibilità di beccare una squadra abbordata. Morbida, esatto. Certo, perché insomma... A parte il Lester e il Monaco, insomma, penso che siano le uniche due squadre morbide dopo la prima fascia. Allora, adesso lasciamo il Napoli e ci occupiamo di un grande giocatore che oggi ha deciso di dire basta con il calcio, stiamo parlando di Steven Gerrard per fare il punto della situazione sulla carriera, la grande carriera di questo calciatore. Andiamo in redazione da Marco Conterio. Ciao Lorenzo, 24 novembre 2016, finisce un'era a Liverpool per il calcio inglese, si ritira Steven Gerrard, Steven Gerrard da Winston, Inghilterra, la più grande bandiera del calcio recente inglese, una delle più grandi della storia del Liverpool alla pari di Bill Shankly, Bob Paisley, Kevin Keegan, uno che non ha mai vinto la Premier League, il suo grande, grandissimo cruccio, quella scivolata per il gol del Chelsea, il gol di Dembabà che mandò in frantumi i sogni dei tifosi Reds, della Coppa, le lacrime sul Merseyside, ma è stato anche il capitano e il protagonista di quello che è stato definito il greatest comeback of the history, la più grande rimonta della storia. Ovviamente i tifosi rossoneri non saranno molto felici di ricordarla, ma è la finale di Istanbul. Ne ha persa anche una successivamente ad Atene, però è uno dei più grandi centrocampisti dell'era moderna, il suo otto, le sue scarpe numero 42, la sua fascia da capitano dal 2003 al 2016, insomma, è uno dei giocatori più importanti, sicuramente la storia inglese. Si ritira oggi, ha detto ho realizzato i miei sogni da bambino, vestendo per il primo giorno, per la prima volta la maglia del Liverpool, mai avrei immaginato una carriera del genere. Si è ritirato non a Liverpool, ma dopo l'esperienza americana, dopo quella con i Los Angeles Galaxy, per scoprire, evidentemente, per capire che anche al di fuori della sua città c'era qualcosa di bello e qualcosa di buono da vedere e da vivere. Ha rifiutato per adesso la panchina del Milton Keynes-Dons, ma siamo certi che sarà anche un grande allenatore, come è stato un grande giocatore. A voi. Grazie a Marco Conterio e a Andrea Losapio, sarà un calcio più povero senza Steven Gerrard, fermo l'estando che poi la fine della carriera arriva per tutti. È chiaro che sicuramente il calcio inglese ha bisogno ancora di trovare i sostituti di Gerrard e di Lampard, anche lui comunque a New York City probabilmente, anche lui prima o poi finirà la carriera, però qualcuno magari sta crescendo, mi parlo di Henderson, mi parlo di Alli, secondo me possono fare molto bene anche loro. La Nazionale adesso si è concluso ieri a Coverciano lo stage di due giorni voluto dal CT Ventura per scoprire, per mettere a fuoco, per valutare tanti giovani che fino a questo momento si sono messi in luce in Serie A, ma anche in Serie B. È stato un'avventura che si è detto soddisfatto alla fine di questi due giorni e alla fine di questi allenamenti con la Nazionale abbiamo avvicinato alcuni dei calciatori più significativi di questa spedizione azzurra. Uno di questi è Roberto Gagliardini, il giocatore dell'Atalanta un po' sulla bocca di tutti dopo questo straordinario avvio di stagione con l'Atalanta. Lo abbiamo avvicinato ieri. Il Pogba bianco, sentiamo che cosa ci ha detto. Sento un giocatore normalissimo che sta facendo un buon campionato, inizio di campionato, con una squadra che finora non nessuno pensava potesse arrivare dove è e ci siamo arrivati, penso con merito e faremo di tutto per restarci. In questo stage che cosa ha detto? Ha detto comunque che ci sono tanti giovani interessanti, penso, che diversi di noi possono meritare di essere convocati dal mister Ventura e sicuramente ci sarà tanto da lavorare durante l'anno con le proprie società per essere convocati nelle prossime convocazioni. Il gruppo Atalanta è il più brillante in questa fase? Più brillante forse per prestazioni sì, perché comunque stiamo facendo le ottime prestazioni. Il mister ne ha convocati ben sette, quindi vuol dire che c'è molta fiducia anche per quanto riguarda la nostra società e siamo contenti di ciò, è un motivo d'orgoglio da parte nostra e della società. Tu per non sbagliare dici grazie Gian Piero, così può essere Gasperini o può essere Ventura. Mi dici quanto c'è stato di Gasperini in questa convocazione? Perché se l'Atalanta è la sorpresa, tu sei la sorpresa nella sorpresa, ma la vera sorpresa racchiude tutto è proprio Gasperini e il suo lavoro. Penso ci sia molto, ci sia molto perché comunque il mister mi ha dato fiducia in un momento difficile dall'Atalanta e anche penso che il suo metodo di lavoro, come lui vuole interpretare il calcio, penso si rifaccia molto alle mie qualità, alle mie caratteristiche di gioco, quindi penso anche per quello stia comunque facendo delle buone prestazioni. Non per metterti in difficoltà, però dice Gasperini tra le altre cose che il calcio è un po' drogato, nel senso che certi giocatori giovani troppo velocemente vengono chiamati in nazionale in generale, tu che cosa ne pensi? Ma troppo veloce, non so, forse a volte è vero anche per quanto riguarda ad esempio la mia convocazione appunto con la nazionale maggiore di una settimana scorsa, è stata magari affrettata, perché comunque è dovuta all'infortunio da parte di Marchese, però appunto io l'ho colta, me la sono goduta e sono contento di esserci stato. Poi non so al mister cosa fecesse riferimento. È onesto eh Gagliardini in questa risposta, sei d'accordo Andrea? Anche abbastanza simile al mio accento, no a parte gli scherzi, è ovvio che Gagliardini nessuno se l'attendesse in nazionale, né lui ma neanche noi, perché comunque l'Atalanta alle volte giocava un Froiler, alle volte giocava un Cassi, quindi lui non era neanche titolare fisso nell'Atalanta, poi sta facendo bene, è stato il migliore in campo anche contro la Roma, quindi forse se l'hai meritata, però sai c'hai Benassi, hai Baselli, hai tanti giocatori che potrebbero giocare comunque. Gasperini comunque allargando il discorso probabilmente ha esagerato, nel criticare lo stage, nel criticare il fatto che Ventura abbia chiamato sette atalantini, in fondo è un riconoscimento al bel lavoro. Esatto, per una piazza come Bergamo, per un club come l'Atalanta avere sette giocatori, anche solo per uno stage a Coverciano in nazionale deve essere motivo di vanto, quindi applausi al lavoro di Gasperini che è un grande allenatore, tra i migliori allenatori italiani che ci sono in questo momento in Serie A, quindi sta facendo un lavoro straordinario, anche perché poi facendo un passo indietro torniamo alla scorsa estate quando Gasperini non fu accontentato dalla società, eppure è stato bravo a plasmare una squadra vincente fino ad oggi con quello che c'era in casa, con questi giovani, questi giovani che poi facendo un passo in avanti, è vero adesso sono nel giro della prima squadra della nazionale maggiore, ma saranno molto utili, a Di Biaggio la prossima estate quando ci sarà l'Europeo Under 21, Locatelli, Gagliardini, sono tutti giocatori che potranno dare davvero una marcia in più a quella squadra. Hai parlato di Locatelli, è un altro giocatore sotto la luce dei riflettori, le sue parole, le sue parole. È stata un'esperienza veramente molto importante e bellissima, perché fare uno stagio con la nazionale è andato tutti i giorni, è un'esperienza importante che porterò dentro con me, e ringrazio il mister per avermi dato questa opportunità. Com'è stato l'approccio con Ventura e che cosa vi ha chiesto, che cosa vi ha dato questi due giorni di lezione? Bello, è stato bravo, ci ha parlato, ci ha detto di allenarci bene ad alta intensità, e noi abbiamo cercato di farlo e siamo contenti così. Fai un sogno, tra quanti anni ti vedi titolare fisso nazionale? No, no, io penso al presente, penso all'armi ogni giorno, e penso a far bene al Milan, a far bene il nazionale quando vengo chiamato, e sono contento così, non penso al futuro, penso solo al presente. Tu però sei titolare nel Milan, ti hanno chiamato per questo stage, ci racconti in generale il tuo momento, perché forse è inaspettato un momento del genere. Sì, sì, questo è veramente un momento speciale per me, non credevo che a questo punto della mia carriera facessi questi passi, sono molto contento di questo, ma devo continuare a lavorare perché non ho ancora fatto niente, devo dimostrare tante, allenarmi sempre con alta intensità ogni giorno. Pensando ai grandi azzurri del passato, c'è uno che ti ispira particolarmente, che ti ha ispirato, che ti ha fatto, non so, commuovere, che guardandolo ti piaceva più degli altri? Sì, assolutamente, Andrea Pirlo, ho sempre ammirato le sue giocate, il suo modo di giocare è tranquillo, l'ho sempre ammirato, e un altro che ammiro è Totti. E la tranquillità di Pirlo? No, io cerco di rubare qualche spunto da lui, ma io sono io, io devo fare bene, pensare di giocare tranquillo, come so fare io. Ecco, di sicuro c'è da dire che in effetti la tranquillità non manca a questo giocatore così giovane, perché insomma, esordire, segnare come ha fatto con il Milan, più di un gol, tra l'altro che gol, poi dal punto di vista proprio estetico, significa che l'emozione non gli gioca a brutti scherzi? No, certamente no, però è anche vero che bisogna stare nella giusta via di mezzo, ci sono dei buoni, ottimi centrocampisti nazionali, io credo che sia Locatelli sia Gagliardini avranno tempo, però neanche bruciare le tappe è utile. Ci sarà lo stage a febbraio, a febbraio si potrà capire qualcosa di più, soprattutto perché poi a marzo c'è la convocazione, subito dopo, per la partita con l'Albania, partita una delle partite chiavi di queste qualificazioni. Però insomma, quello che emerge anche da questo stage e anche da queste prime partite di campionato, di questi mesi, è che il nucleo dei giovani sta crescendo e dà delle buone indicazioni per il futuro, per la nazionale del futuro. Rivediamo la luce finalmente, perché dopo tanti anni si vedono, si intravedono giovani che potenzialmente possono essere all'altezza di una grande nazionale. Ora, al netto di questo stage, ma un centravanti come Belotti, in Italia non lo si vedeva dai tempi di Lucatoni, sono passati dieci anni dal 2006, invece abbiamo finalmente un centravanti che è potenzialmente il centravanti della nazionale per i prossimi dieci anni, abbiamo l'erede di Buffon, abbiamo questi centrocampisti che hanno tutto per diventare degli ottimi centrocampisti anche per la nazionale, abbiamo Romagnoli e Rugani in difesa, un classe 95-94, insomma si rivede finalmente la luce dopo anni molto, molto bui, come hanno certificato anche gli ultimi risultati della nazionale. Ecco, in 30 secondi, prima di salutarci, sarebbe stato bello anche poter vedere tutti questi giocatori giovani impegnati in un amichevole vero e proprio, al di là degli allenamenti che sono importanti per poter inculcare nei giocatori la filosofia di gioco di Ventura, però ecco, testarli in un amichevole sarebbe stato diverso. Ventura ha detto che probabilmente si farà a maggio, il 31 perché poi c'è il 7, c'è una partita di qualificazione mi pare contro l'Ikestan se non vado errando, però è ovvio che, forse con la Macedonia, comunque è chiaro che servirebbe qualcosa di più anche per crescere dal punto di vista di squadra. Ventura comunque ha detto più volte questa qua deve essere comunque una squadra e quindi vuole fare questo. Grazie Andrea Lozapio e grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento in serata.